Mmm, cioccolato. È uno degli alimenti che amiamo di più al mondo, dove soffochiamo i nostri rimpianti oppure consumiamo per festeggiare i nostri successi. Insomma, è più che un alimento. Ecco, dovete sapere però che il mercato del cioccolato è molto meno dolce, purtroppo, di quanto potete immaginare. E anche vi devo dare un altro avvertimento, e cioè che potrebbe diventare molto salato. Vi spiego tutte queste cose in questo video. Parliamo del mercato del cacao. Ma conosciamo meglio il nostro indagato di oggi, e cioè l'albero di cacao. Per chi non lo conoscesse, il cioccolato non nasce in natura, ma deriva dal cacao. Ecco che l'albero di cacao ha bisogno di un ambiente umido e caldo per poter crescere, e anche di molta ombra. Infatti, predilige zone dove sono presenti anche altre piante ad alto fusto, in modo che possa crescere al di sotto della loro ombra protettiva. Ecco, tutte queste caratteristiche meteorologiche e ambientali le troviamo soprattutto nella zona equatoriale del mondo, e in particolare nell'Africa occidentale. Infatti, quasi il 75% della produzione mondiale di cacao avviene nelle nazioni della Costa d'Avorio, del Ghana, della Nigeria e del Camerun. Ovviamente non sono un agronomo, sono un umile economista, ma è importante capire alcune caratteristiche di questa pianta, per poter anche capire meglio i problemi economici di questo mercato. Infatti, l'albero di cacao produce i suoi frutti dopo circa 5-6 anni di nascita, e rimane produttivo fino a circa 25 anni di età, termine oltre il quale la pianta diventa anziana. Oltretutto, sto benedetto albero ha bisogno di una mano d'opera molto attenta. Di conseguenza, processi di industrializzazione per rendere l'estrazione dei frutti del cacao su grande scala diventa estremamente difficile. Quindi, l'intervento umano è necessario per poter raccogliere i frutti del cacao. Il punto di svolta del mercato del cacao è avvenuto all'incirca degli anni 70, quando il prezzo della materia prima è esploso, fino a raggiungere quasi i 6.000 dollari a tonnellata. Il prezzo alle stelle ha spinto ad un aumento della produzione per approfittare appunto di maggiori guadagni, in particolare in Costa d'Avorio, che con il suo presidente, Félix Aupé Boigny, credo che si pronunci così, il presidente della Costa d'Avorio ha aumentato in maniera esponenziale la produzione di cacao, fino a diventare il paese con la maggiore produzione al mondo di questa materia prima. La sua strategia è stata ovviamente quella di incentivare il più possibile la produzione di cacao, attirando milioni di agricoltori africani con generosi incentivi. Tra questi anche il trasferimento della proprietà della terra per chiunque piantava alberi di cacao. Quali sono stati i risultati? Beh, sicuramente un aumento di ricchezza per il paese, ma anche grande deforestazione. Come abbiamo detto, l'agricoltura del cacao non si adatta ad una produzione intensiva, cioè che massimizza la produzione del terreno. Si è utilizzata invece una tecnica di coltivazione estensiva, con un grande uso del suolo. In questo modo tantissimi agricoltori hanno iniziato a deforestare, a più non posso, ettari su ettari di foreste della Costa d'Avorio, per appunto aumentare la produzione di cacao. Ricchezza e deforestazione, quindi. Peccato che questa ricchezza, in alcuni casi, è stata anche sprecata in malo modo. Un esempio è l'idea geniale del presidente Felix della Costa d'Avorio, che ha deciso bene di riprodurre, sentite bene, la cattedrale di San Pietro, proprio nella capitale della Costa d'Avorio, a Yomusaukro. Vedo anche qui si pronuncia di così. Ecco, guardando i risultati, sembra proprio essere stata ordinata su Wish. Wish, ammettiamolo, la Costa d'Avorio ha altre qualità. Siamo onesti. Ma torniamo a noi. Dopo gli anni 70 c'è stato un grande aumento della produzione, perché si potevano fare grandi guadagni. Ma un aumento della produzione ha reso la materia prima più accessibile, e quindi ha fatto diminuire i prezzi del cacao, tornando ai livelli più normali. Come vediamo qui è diminuito il prezzo, agevolando la diffusione e il consumo di questa materia prima in tutto il mondo. La classica legge della domanda offerta, niente di più banale. Un effetto invece meno banale, derivante dalla diminuzione dei prezzi della materia prima, è stata la diminuzione degli investimenti agricoli, in quanto conveniva farne meno spesso, visto che i margini di guadagno si erano ridotti. Ecco che, a questo punto, una degli ultimi piantagioni dell'Africa occidentale è avvenuta proprio all'inizio degli anni 2000, proprio in Costa d'Avorio. Ecco, se prendiamo quello che vi ho detto prima, e cioè che la vita media di una pianta produttiva è di circa 25 anni, vedete che i conti tornano. In questo momento abbiamo tantissimi ettari di piantagioni, soprattutto in Costa d'Avorio, che sono arrivati un po' alla fine del proprio ciclo produttivo. E questo è un problema. I vecchi alberi di cacao comportano fondamentalmente due problemi. Produzioni inferiori rispetto ad una pianta giovane e ovviamente anche piante particolarmente fragili e vulnerabili a intemperie oppure malattie. Ed è proprio quello che è avvenuto nel 2023, con questi due elementi che hanno distrutto una buona parte della produzione di cacao in Africa. Pensate che ad oggi il differenziale tra domanda e offerta di cacao è tra le 300 e le 500 mila tonnellate, che è uno dei livelli più bassi che si siano mai raggiunti negli ultimi 65 anni, con anche un livello delle scorte che è tra i più bassi ed è ai minimi storici. Ma perché la quantità di scorte è così importante in questa dinamica di mercato? Beh, semplicemente perché se ho molte scorte posso gestire più facilmente le fluttuazioni di mercato. Se ad esempio il prezzo schizza troppo in alto, invece di acquistare la materia prima ad un prezzo proibitivo, utilizzo le mie scorte, aspettando che il prezzo possa scendere. Così non ho incrementi nei costi di produzione e la mia marginalità rimane stabile. Se invece non ho abbastanza scorte, non ho un paracadute di approvvigionamento e sono costretto ad acquistare anche a prezzi più elevati, creando un danno alla mia produzione. Ed è proprio quello che sta succedendo nel mercato del cacao. I prezzi sono schizzati in alto, le scorte sono basse, quindi la domanda di materia prima rimane comunque elevata, dando sostegno ad un aumento ulteriore del prezzo del cacao. Ecco, ma non è solo di prezzi e di mercato che voglio parlare in questo video. Se ho scelto questo momento è anche perché voglio raccontarvi anche di alcune dinamiche non troppo felici. Se infatti il cioccolato è un alimento molto dolce e gradevole al palato, la stessa cosa non si può dire per tutta l'industria di estrazione e lavorazione della materia prima. Infatti, numerosi problemi ci sono di sostenibilità non solo ambientali, ma anche di diritti umani. Per darvi due cifre, in Costa d'Avorio circa l'80% delle foreste pluviali sono state distrutte, in gran parte a causa della coltivazione di cacao. Tra Ghana e Costa d'Avorio, inoltre, circa 1,56 milioni di bambini sono impiegati nella lavorazione e nell'estrazione dei frutti di cacao e di questi circa il 43% svolgono attività ad alto rischio. Ma non è finita qui. In questa macchina da miliardi di dollari, gli agricoltori purtroppo sono l'ultimo vagone di questo processo produttivo. In mezzo ci sono anche i governi africani che regolamentano e tassano fortemente il mercato e il prezzo della materia prima. E poi arriviamo a noi, gli occidentali. Dall'altra parte del mondo, infatti, nei paesi sviluppati come noi, le industrie dolciarie pretendono un prezzo della materia prima il più basso possibile per rendere i loro prodotti alimentari accessibili alla popolazione. Il problema è che la gran parte del valore aggiunto di questo processo produttivo del cioccolato è proprio nelle mani delle aziende occidentali, e cioè di noi, che quindi diventano la controparte più ricca in tutta questa catena produttiva alimentare. Per rendervela ancora più chiara, secondo una ricerca di Fair Trade Foundations, un'associazione che si occupa di queste tematiche, in una barretta di cioccolato circa il 6%, solo il 6% del prezzo che noi paghiamo arriva nelle mani degli agricoltori. Tutto il resto viene suddiviso tra aziende produttrici, esportatori e governi africani. In questo modo circa il 90% degli agricoltori in costa d'avorio e il 70% in Ghana sono al di sotto della soglia di povertà di circa 2,14 dollari al giorno, stabilita dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Ovviamente per risolvere questo tipo di problema sono nate tantissime etichette che certificano che la materia prima è stata estratta attraverso processi produttivi sostenibili e che quindi non includano lavoratori sfruttati o minori. Anche se sono stati fatti dei passi avanti in questo senso, purtroppo bisogna anche constatare che oggi solo un terzo dei prodotti alimentari ha queste certificazioni sulle loro etichette. Quindi il grosso dell'industria dolciaria non ha assolutamente nessun controllo riguardo questi processi produttivi e che siano il più possibile sostenibili. Ecco, vi ho voluto raccontare anche questi aspetti per sensibilizzarvi e per raccontarvi l'altra faccia dell'industria dolciaria basata sul cioccolato e magari fare un po' più attenzione per quanto riguarda queste etichette. Senza ovviamente parlare di tutto il greenwashing, il social washing che queste certificazioni potrebbero nascondere. Però più attenzione si potrebbe fare su queste tematiche. Per quanto riguarda i problemi di redistribuzione di ricchezza all'interno del processo produttivo del cacao, anche qui sono state date alcune soluzioni. Ad esempio, alcune attività africane stanno cercando di costruire anche loro un'attività produttiva in loco, nel loro territorio, in modo tale da tenere la catena del valore nella loro regione e quindi non perdendo porzioni di ricchezza che potrebbero far crescere ulteriormente la loro economia. Insomma, un aiutiamoli a casa loro in versione cacao, ecco, per capirci meglio. Un esempio in questo senso è l'azienda Beyond Good, un'azienda americana con sede a New York ma che ha aperto proprio lì, nel Madagascar, un sito di produzione di cioccolato. In questo modo il paese africano ha molti più vantaggi in quanto detiene molti più processi produttivi nel territorio e quindi la ridistribuzione di ricchezza avviene a maggior ragione nel territorio africano. Ma torniamo anche ai nostri problemi. Ad oggi, come immagino abbiate capito da questo video, manca cacao nel mercato, per diversi motivi che vi ho spiegato in precedenza. E il prezzo della materia prima, nel febbraio del 2024, è schizzato in alto, superando anche il record degli anni 70, come avete visto qui. E la cosa più grave è che non sembrano esserci dei motivi validi per una discesa del prezzo, almeno nel breve periodo, perché, come vi ho spiegato, sono dei problemi strutturali e di medio-lungo termine che difficilmente potrebbero essere risolti a breve. Questa situazione, anche se esplosa qualche mese fa, sta già generando numerosi problemi alle produzioni nazionali di cioccolato con addirittura dei problemi di approvvigionamento della materia prima. Ci possiamo aspettare un aumento dei prezzi del cioccolato anche sugli scaffali dei nostri supermercati, anche se la Pasqua, diciamo, che l'abbiamo salvata, in quanto la produzione è avvenuta già qualche mese fa, quando i prezzi erano stabili, e vedete già due uova di Pasqua in commercio. Quindi la Pasqua l'abbiamo scampata, però nei prossimi mesi potremo effettivamente vedere dei aumenti di prezzo sul cioccolato. Un'altra conseguenza che potremmo notare sui nostri supermercati, forse più probabile, è un cambiamento. dell'offerta dei prodotti dolciari da parte delle aziende produttrici, andando ad esempio ad una riduzione delle guarnizioni di cioccolato, proprio ad esempio come ha fatto Mars, che ha ridotto di 10 grammi di cioccolato la sua ricetta per produrre i suoi dolci. Oppure, un'altra conseguenza che potremmo vedere, è un rimpicciolamento del dolce, ma allo stesso prezzo. La cosiddetta shrink inflation, cioè ti vendo un prodotto allo stesso prezzo ma con una quantità minore. In questo modo l'azienda può abbattere i costi di produzione più elevati. Un'altra conseguenza ancora potrebbe essere che le industrie dolciarie potrebbero cambiare la loro proposta di dolci, andando a sostituire le guarnizioni in cioccolato con guarnizioni più economiche, come il caramello, il burro d'arachidi, oppure basi di frutta. Insomma, forse è arrivato il giusto momento per iniziare la nostra benedetta dieta, arrivare all'estate con un fisico scultorio. Spero che questo argomento vi sia interessato sia delle dinamiche di prezzo che sull'impatto ambientale e sociale della produzione di cioccolato. Io vi ricordo solo un'ultima cosa che ci tengo tanto. Settimana scorsa è venuto ospite a Tricase per il mio progetto di dibattito sullo sviluppo territoriale del Salento il professore Giulio Bucciuni, professore del Trinity College di Dublino in imprenditorialità. È stato un evento estremamente interessante, vi consiglio di andare a recuperarlo perché potrebbe esservi sicuramente utile per capire alcune dinamiche economiche che stiamo subendo in questo momento. Andatelo a recuperare perché è veramente interessante. Quindi, niente. Alla prossima. Ciao.